Chiara Pasqualini, debutto in prima squadra per te, oggi secondo tempo, sei entrata al 46esimo, come ti sei trovata all'interno dei meccanismi della squadra? È andata bene, ovviamente dopo una settimana di ritiro avevo le gambe un po' deboli, insomma era molto difficile giocare anche col caldo, però mi sono trovata bene. Beh insomma qualche tiro importante mi sembra l'abbiamo visto dalla tribuna. Sì, sì, è andata bene. Qualcosa ti aspetti da questa stagione, da parte tua in particolare? Beh io mi impegnerò al massimo e spero di guadagnarmi il posto e insomma anche dal punto di vista della squadra spero che riusciamo a arrivare alla categoria maggiore. Grazie.